Domande riguardanti i protagonisti del mondo di Dragon Ball. Moltissime importanti informazioni sui personaggi principali e sulle vicende accadute dopo la fine della storia. Si è ispirato a qualche modello per le acconciature di Bulma? Non avevo modelli ma cambiavo volontariamente i capelli di Bulma a ogni punto di svolta della storia. Come è finita tra Lancia e Tenshinhan? Che dire Lancia è stata mollata ma ha continuato a insistere con tenaccia, finché non sono tornati insieme forse. Che fine hanno fatto l'eremita della Grueta o Bye Bye? Beh, sono morti, ma poiché erano malvagi non sono potuti tornare in vita con l'aiuto delle sfere del Drago. Quanto è forte Mr. Satan? Credo sia abbastanza forte. Non quanto il wrestler professionista Bob Sapp in ogni caso. Yamcha ha trovato una ragazza alla fine? No, è rimasto sempre lo stesso. Vegeta resta disoccupato anche in seguito? Non ha bisogno di lavorare dato che Bulma è ricca. Pana è sicuramente molto forte, ma anche bra lo è. Certo, credo sia forte anche lei.